...di gol rispetto alle partite ufficiali, magari sarà anche così oggi... ...ha il pallone del possibile vantaggio... ...braio Hernandez... ...posizione ideale... ...opportunità... ...di dietro in ball... ...ottimo rischio... ...mamma mia cosa ha fatto qui... ...può avanzare indisturbato... ...attenzione a Dallovic... ...di dietro in ball... ...Cristiano... ...di dietro in ball... ...1 a 0... ...e un vantaggio assolutamente meritato questo... ...sono d'accordo Pierre... ...ho solo questione di tempo... ...già spingendo da diversi minuti... ...e alla fine... ...drop in ball... ...drop in ball... ...c'è l'intervento del portiere che evita il gol... ...parata splendida... ...la di Douglas Costa... ...traversione del mezzo... ...intervento così così... ...palla ancora... ...c'è tutto il loro orgoglio... ...il loro spirito di battaglia... ...nel gol che vale il pareggio... ...loro non mollano... ...battita bellissima... ...equilibrata... ...combattuta... ...penso che anche il pubblico... ...sulle tribune... ...è quello a casa... ...si stia... ...quillo attendo oggi... ...cuccedimento interessante... ...grave... ...palla buona per Sanchez... ...è un gol che preme i loro sforzi... ...i loro gioco... ...la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato... ...vantaggio strameritato... ...goll era... ...bravo qui il difensore che... ...legge bene questo pallone... ...crissiamo Ronaldo... ...vantaggio che comincia a farsi importante... ...due gol da recuperare... ...una per gli avversari... ...è ancora presto però per... ...cattare vittoria... ...eh si fa dura per loro... ...anche perché oltre... ...ci riprova... ...un occhio a Cristiano... ...che gol... ...splendi da rete... ...vio attenzione... ...Sanchez... ...prova a aprire la difesa... ...vanda in rete... ...un gol da grande opportunista... ...è riuscito a liberarsi... ...e superare il potere del passio... ...nello che riesce a spiegare... ...l'accelerato da... ...però... ...cattare la sfumazione... ...però... ...olgo di... ...però che... ...quitola... ...involta... ...e avvisare nel... ...e avvito... ...i avvito... ...la...